La sicurezza dei quattro nosocomi teramani, nonostante siano strutture datate, non è messa in dubbio, lo afferma il direttore generale dell'Asla di Teramo, Roberto Fagnano, che auspica però un futuro unico ospedale progettato per garantire la più assoluta affidabilità strutturale. Questo perché, quando arriva la scossa, i pazienti ricoverati sono gli unici a non poter scappare, così come gli operatori sanitari, che hanno l'obbligo di non abbandonare i malati. In tutti e quattro gli ospedali abbiamo fatto una serie di verifiche, verifiche che sono tuttora in corso, così come sono state fatte anche su altre strutture. Apparentemente non esistono problemi strutturali, certamente ci sono alcuni distacchi di intonaci, alcune fessure, che però, in una prima analisi, non destano significative preoccupazioni. Il contesto generale, al momento, non è di preoccupazione. Invece la preoccupa un po' la sede dell'Asla qua in circonvallazione Ragusa? Sì, attualmente stiamo facendo con i vigili del fuoco le verifiche, perché sono state riscontrate in questo palazzo di circonvallazione Ragusa, una serie di lesioni, diciamo, la cui rilevanza è in corso di accertamento. Apparentemente non preoccupanti, però credo che un edificio che ha qualche centinaio di dipendenti al suo interno e che, peraltro, è aperto a pubblico, per quanto congenere alcune prestazioni sanitarie, quelle che rendono i poliambulatori, debba essere ulteriormente verificato. È quello che si sta facendo in questo momento. E mentre i vigili del fuoco di Teramo verificano la sicurezza della sede dell'Asla Teramana di circonvallazione Ragusa, è stata evacuata a scopo precauzionale la sede dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo in via Campo Boario. 300 dipendenti sono stati rimandati a casa, in attesa del sopralluogo dei tecnici.